Buonasera a tutti, faccio questo video perché mi serve il vostro aiuto, ho venduto il runner 180 e adesso sto cercando una moto in particolare sono interessato alla Kawasaki R6 F650 e mi raccomando F non N, quindi sto cercando quella carenata, non quella naked come serie mi interessava la seconda, quindi quella dal 2009 al 2012, però posso valutare anche la prima eventualmente, quella dal 2006 al 2008 la colorazione che mi interessa principalmente è il bianco, poi mi può anche interessare il verde come lo zip per abbinarli insieme ovviamente deve essere tenuta bene, circa con 20.000 km, non oltre perché poi iniziano a diventare un po' troppi per i miei gusti e cos'altro? Ah, importante, deve trovarsi nel raggio di 200-250 km da Ferrara, quindi diciamo tra l'Emilia Romagna, il Veneto, la Toscana e le Marche se conoscete qualcuno che ne vende una, commentate sotto il video, poi ci penserò io a contattarvi per adesso vi ringrazio, alla prossima